Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura la cronaca, una maxifurto a Sansepolcro nelle mire dei ladri, la sede della manutenzione comunale. Hanno aperto il magazzino comunale caricato su un furgone e l'attrezzatura e poi sono scappati, ma prima hanno preso di mira anche il rimessaggio di Sei Toscana. È un colpo che potrebbe sfiorare i 100.000 euro quello messo a segno a Sansepolcro. E questo forse è l'aspetto che più rammarica perché veramente qui parliamo di soldi di tutti, di materiale di tutti. A fare la mara scoperta, il personale del comune all'arrivo al capannone lungo via Senese-Aretina ha notato ingressi forzati. Qui vengono custoditi gli strumenti del servizio manutenzione. Un danno veramente rilevante, hanno rubato tutta l'attrezzatura dei nostri operai comunali, dai trattori in Italia Erba, ai Tosa Erba, motoseghe, dei cespugliatori e anche altro materiale vario. Per quanto ci riguarda uno dei più grossi furti mai effettuati alla nostra attrezzatura, tra l'altro oltre che il danno c'è anche la beffa perché i nostri operai sono veramente adesso anche sguarniti del materiale col quale devono operare quotidianamente. Ora ci stiamo già attrezzando per il riacquisto dei materiali più urgenti, delle attrezzature più urgenti. Visitata anche la sede Biturgenze di Sei Toscana, da dove ladri hanno portato via centinaia di litri di gasolio. Sull'episodio sta indagando la Polizia di Stato che ha già effettuato un primo sopralluogo solamente pochi giorni fa un altro colpo nella zona industriale di Sansepolcro, nemmeno ad un chilometro di distanza in linea d'aria. Anche in questo caso i ladri si sono dati alla fuga con un furgoncino. Sembra che siano dei professionisti perché sembra quasi che siano svaniti nel nulla. Comunque gli inquirenti stanno indagando, ci auguriamo che queste indagini possano avere un esito positivo. Di sicuro noi continueremo per quello che è possibile a mantenere alta la guardia sul controllo del territorio con i sistemi di videosorveglianza che sono comunque uno strumento indispensabile. Un altro furto si è consumato invece in Valdichiana, a Monte San Savino, dove una banda composta da almeno quattro persone nella notte si è introdotta in un bar tabacchi a poca distanza dal casello autostradale. I ladri sono riusciti a scappare con un bottino di circa 5.000 euro. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. In Casentino invece è lungo la strada statale 70 della Consuma. Questa mattina un incidente stradale. Un mezzo pesante si è rovesciato, riversando sulla carreggiata il contenuto del carico, rotoli di carta pressata. L'uomo alla guida del mezzo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è rimasto ferito. Sul posto vigili del fuoco e i sanitari dell'emergenza urgenza. Voltiamo pagina. Roma prosegue la protesta degli agricoltori arrivati anche dalla provincia di Arezzo. La CIA Aretina, in questo momento così delicato per il settore, ha deciso di raccogliere il messaggio lanciato da una delle eccellenze agricole della Valtiberina, la produzione di tabacco. Mentre su piazze strade continua la protesta degli agricoltori, E.C. Arezzo ha dar voce ai produttori di tabacco, fiorall'occhiello dell'economia agricola della Valtiberina. Principalmente coltivo tabacco Kentucky, però faccio anche cereali di vario tipo. Ho partecipato anche io il 30 alla manifestazione di Bettolle. La cosa dolorosa è che se c'è bisogno di fare una manifestazione con i trattori, vuol dire che siamo arrivati alla frutta. Quelli che dovevano rappresentare i nostri problemi, o non sono arrivati in tempo, o comunque io dico il guaio è stato soprattutto che non c'è stato l'ascolto. Gli incontri in azienda con gli agricoltori, un format ormai collaudato, sono iniziati proprio da questo settore, oggi in difficoltà a causa degli eventi meteorologici e per le forti difficoltà a reperire mano d'opera. Troviamo sempre meno persone disponibili per poter venire a lavorare e la cosa più complicata è la formazione degli operai, perché ci chiedono patentini, ci chiedono ovviamente, va bene, l'antinfortunistico è più che giusto, ma troviamo difficoltà nel riuscire a fare tutto questo nei tempi che poi la stagione ti impone, perché arrivano gli operai, fai l'assunzione, sei magari già in ritardo con la raccolta e devi fare tutti i patentini, tutte le varie cose, i vari corsi e non ce la fai a starci dietro. Abbiamo dei controlli paurosi, perché ogni volta che si esce con gli operai su un campo a raccogliere o a cimare o a fare qualsiasi cosa siamo soggetti a visite da parte di tutti gli organi di controllo, quindi dico la verità, a volte ci sentiamo quasi braccati quando siamo nei campi a svolgere il nostro lavoro. La nuova stazione dell'alta velocità Medio Etruri è stata al centro di un'audizione questa mattina in Commissione Territorio ed Ambiente preseduta da Lucia De Robertis del Partito Democratico. Sono stati ascoltati i vertici di RFI, la rete ferroviaria italiana, in merito alla relazione tecnica sulla localizzazione dell'ipotizzata stazione dell'alta velocità, ossia quella di Creti, una scelta che non ha convinto molti. I tecnici RFI che hanno condotto lo studio, scegliendo appunto l'opzione valdichiana, lo hanno fatto in base a tre criteri cardine, il rapporto costi-benefici, i tempi di percorrenza e l'orientamento a realizzare una stazione ex novo. E c'è invece soddisfazione da parte delle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti per l'esito dell'incontro avuto questa mattina in Prefettura sul tema della sicurezza nella zona dei giardini del Porcinai. Abbiamo avuto rassicurazioni, hanno dichiarato Catiusciafei e Valeria Alvisi, sul fatto che saranno aumentati i servizi di pattugliamento e di controllo e in attesa dell'avvio dei lavori per la riqualificazione dei giardini, l'amministrazione comunale effettuerà interventi di manutenzione per implementare nelle aree più a rischio illuminazione e sistema di videosorveglianza con l'installazione di 11 nuove telecamere ad alta risoluzione. E adesso parliamo di economia, è un saldo negativo quello per il commercio al dettaglio a retino. Con oltre 300 negozi persi in 12 anni è negativo il saldo degli esercizi commerciali e al dettaglio nel comune di Arezzo. Dal 2012 al giugno 2023 sono infatti diminuiti di 326 unità. Dalle botteghe alimentari a negozi di moda, cartolibrerie o ferramenta, il calo interessa a quasi tutti i settori merceologici, ad eccezione di farmacie, negozi di informatiche, telefonie, l'e-commerce, portaporte ed altre forme di vendita alternativa sono invece in crescita, a rivelarlo l'ultimo osservatorio sulla demografia d'impresa realizzato da Comfcommercio. Il calo degli esercizi di vicinato è più marcato in centro storico rispetto alle altre zone e accomuna Arezzo a tutte le altre città toscane. La situazione è migliore nel settore turistico. Nel confronto tra 2012 e 2023, strutture ricettive, extraalberghiere e ristoranti sono in leggero aumento, soprattutto nelle zone esterne al centro storico. I bar invece sono in sofferenza, ne mancano all'appello 57. Da sottolineare poi che la performance delle imprese e del turismo avrebbe potuto essere più brillante se non ci fosse stata la pandemia. Nel confronto tra il 2019 e il 2023, infatti, il settore ha perso nel complesso 35 unità. Le statistiche mettono in luce l'estrema fragilità delle imprese di commercio e turismo che vivono e muoiono degli equilibri delle nostre città e del mercato, spieghi il direttore di confcommercio toscana Franco Marinoni. Se prima i cambiamenti avvenivano in tempi lunghi decine di anni, conclude, adesso avvengono nel giro di pochi mesi e stravolgono tutto. Adesso la pagina della politica amministrative 2024 si voterà anche in provincia di Arezzo e questa mattina il sindaco di Terra Nuova, Bracciolini, Sergio Chienni, ha sciolto le riserve annunciando che si ricandiderà alle prossime amministrative. Tengo a ringraziare le forze politiche di maggioranza e soprattutto la comunità per l'affetto e la stima che ho ricevuto in questo tempo, in particolar modo negli ultimi giorni. A volte quando chiedo di fare le cose a mio figlio e gli rispondo semplicemente perché sì, lui mi dice che non è una risposta sufficiente, che le cose vanno motivate ed ha perfettamente ragione. Credo che sia giusto e dovorioso condividere le motivazioni che spingono ad una scelta, anche perché su quelle si fonda poi il nostro agire e lo spirito in cui facciamo le cose. Dico di sì perché sono innamorato della mia città, sia quando è faticoso, perché fare il sindaco non è semplice, sia quando è entusiasmante. Sono consapevole, la nostra è una comunità che sa creare lavoro e per questo è uno dei punti di riferimento della provincia d'Arezzo, ma sa anche essere molto solidale grazie alla vivacità del mondo dell'associazionismo. In questi anni sono andato spesso nelle scuole perché lì c'è custodito il motivo, la spinta e gli stimoli del nostro impegno e di volta in volta scopriamo e riscopriamo. Per questo mi metto a disposizione, per una città che è produttiva, solidale e soprattutto perché questo impegno è un noi e quindi affrontiamo insieme le sfide anche complesse e ci attendono. Non disciolti anche a Cortona, il centro-destra si presenterà unito alle prossime elezioni amministrative nel comune di Cortona candidando Nicola Carini, vicepresidente della provincia di Arezzo e attuale presidente del Consiglio Comunale di Cortona. A renderlo noto sono stati i segretari regionali dei partiti del centro-destra in Toscana. Nicola Carini hanno dichiarato può vantare un'esperienza politica ed istituzionale importante da mettere al servizio della comunità cortonese. E torniamo in città, all'Arezzo Fiere Congressi, questa mattina si è concluso il salone dello studente che per la prima volta ha fatto tappa proprio ad Arezzo. 10.000 i ragazzi e le ragazze che si sono confrontati sul proprio futuro ed era presente anche la misericordia aretina. Vediamo il servizio. Quello che ti dà è veramente una cosa essenziale di vita, quindi vi rendete conto che poi ne sentirete proprio il bisogno, la mancanza, anche quando torni a casa stanca ma proprio senti voglia di andare a offrire una mano che ha bisogno. Il ruolo del volontariato e del tendere una mano all'altro spiegato ai ragazzi dalla misericordia di Arezzo che partecipa in questi giorni al Campus Salone dello Studente in corso all'Arezzo Fiere Congressi. Per il volontariato appunto mettiamo a disposizione il nostro ente per fare esperienza in ambito dell'assistenza sanitaria. Parliamo anche dei nostri corsi per diventare soccorritore. In particolare per quanto riguarda il corso base appunto presentiamo una parte del programma che è costituita dalle manovre di disostruzione e anche dell'utilizzo del DAE. Inoltre parliamo di servizio civile che da noi è costituito dall'assistenza sociale e appunto i ragazzi vengono da noi e possono fare esperienza e possono fare questo percorso che è importante per capire il ruolo sociale di dare una mano, di fare assistenza. Chi sceglie di diventare volontario o chi di avviare un percorso per il servizio civile i ragazzi imparano così cosa vuol dire aiutare gli altri, crescono e magari trovano la loro strada. Secondo me possono dare tante esperienze lavorative anche a crescere proprio in maniera personale. Applicare le piastre sulle belle muta esattamente come illustrato nelle immagini. Premere sulle piastre affinché aderiscano bene. Lei non smette mai. No, di qua. Sicuramente è stata un'esperienza importante, magari in futuro saprò come farlo meglio di prima, quindi sì. E i volontari si cercano anche per la valigia dei sorrisi. Dà tantissime emozioni, regalare sorrisi a tutto tondo, non solo ai bambini, anche agli anziani, agli adulti, qualsiasi fascia di età, ridere fa bene. Serve anche a aumentare, a velocizzare la guarigione, stimola tanti ormoni. Io sono un vero dottore, sono tutti i termini tecnici. E quindi funziona a livello di terapia e ci divertiamo. Siamo noi in primo luogo a divertirsi. Col naso rosso ci sentiamo potentissimi, facciamo di tutto. Il naso rosso toglie tutte le barriere, quindi possiamo entrare in contatto con qualsiasi persona di qualsiasi fascia di età. Quindi va, aspettiamo. Ancora istruzione, una nuova sede didattica ad Arezzo per la fondazione ITS Academy Energia ed Ambiente, punto di riferimento regionale per l'alta formazione tecnologica posta diploma per le nuove professioni in ambito energetico ed ambientale presente sul territorio aretino dal 2019. Inaugurati all'ITIS Galileo Galilei, i nuovi spazi adibiti alla scuola per lo svolgimento delle attività didattiche dei percorsi ITS che hanno già avuto modo di ospitare le prime lezioni in aula lo scorso ottobre. E dal 20 febbraio invece ad Arezzo prende il via il Festival della Salute Mentale. Per una settimana la città si trasformerà nella capitale del benessere della salute. si parlerà di futuro, inclusione, diversità, memorie e relazioni dal 20 al 24 febbraio in programma oltre 30 eventi tra incontri con scrittori, artisti, iniziative culturali, spettacoli, mostre e proiezioni, laboratori, visite guidate e anche un triangolare di basket. E da un festival ad un altro, quello di Sanremo, ieri sera ad emozionare il monologo di Giovanni Allevi è ritornato sul palco dell'Ariston dopo quasi due anni lontano dalle scene per via della malattia. È forte il suo legame con la terra retina, nello specifico con il maestro Carlo Alberto Neri, suo maestro e mentore. Commozione e gioia all'Ariston durante l'esibizione del maestro Giovanni Allevi, il grande pianista e compositore italiano, tornato a suonare per la prima volta sul palco di Sanremo dopo una lunga pausa dovuta ad una malattia, un mieloma multiplo. Il suo ritorno ha commosso tutta l'Italia, in particolare i due luoghi a cui Allevi è legato Ascoli Piceno, che gli ha dato i Natali, e Arezzo, dove Allevi è nato musicalmente. Ogni sabato, per circa tre anni, siamo negli anni 90, Allevi ha preso il treno per arrivare nella città di Guido Monaco e seguire le lezioni del maestro Carlo Alberto Neri nella sua Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale. È stato un vero piacere perché lui affrontava tanti sacrifici, come per esempio un viaggio notturno in treno da Ascoli Piceno e da Arezzo. Ci voleva tutta la notte in treno, cambiando treni in queste linee secondarie, eccetera, eccetera. Per cui arrivava la mattina, mi ricordo, alle 10 del sabato e faceva lezioni con entusiasmo, nonostante la fatica. Ha dato un bel esempio anche nella malattia. Sì, certo, nella malattia, ma io mi ricordo fin dagli anni di studio, in cui lui ha fatto tutto il corso di studi di pianoforte, fino al decimo anno, risolto con un bellissimo 10, poi ha fatto la laurea in filosofia e ha fatto pure in composizione. Quindi, tre cose molto sostanziose. Ha avuto una svolta nel senso compositivo, nel senso che ha trovato la possibilità di fare un bel disco di Musiche Sue, che ha avuto molto successo e si è incanalato, diciamo, come musicista, come pianista di Musiche Sue. Un talento unico è certo quello di Giovanni Allevi, ma è proprio il suo maestro a lanciare una forte provocazione al mondo, in questo caso della scuola, secondo lui fortemente deficitario di una vera cultura musicale. La scuola dell'obbligo, insomma, questa parte non è... La nostra scuola è una scuola letteraria, viene dalla riforma di cento e più anni fa, che naturalmente ha escluso la musica dai licei, per esempio, perché la musica era un'arte pratica. I nostri licei non hanno mai ospitato una storia della musica, perché si deve studiare storia dell'arte e non storia della musica? Perché Michelangelo è più importante di Bach, di Beethoven? Ecco, io credo che siamo veramente all'anno zero ancora. A metà del percorso innovativo del progetto Potipicture Academy 2023-2024, questa mattina si è svolta presso la sede della Potipicture la conferenza stampa di presentazione della nuova classe di aspiranti attori. L'Academy si propone infatti di offrire ad otto persone con disabilità intellettiva un'opportunità unica, la formazione nel campo cinematografico. In primavera è prevista la realizzazione di un cortometraggio con attori con disabilità intellettiva nella prima scuola di formazione professionale specifica di cinema in Italia per persone con disabilità intellettiva e relazionale. E adesso voltiamo pagina. Allo spazio semi invece è stata presentata la raccolta poetica di Lucrezia Lombardo. È questo tenue tocco di vento che lucida la pelle, l'incertezza della vita, il suo essere un polline di terra, un lampo. I sogni sono i protagonisti di questa raccolta perché ognuno di noi vive sempre a cavallo tra la realtà e il sogno. La vita è una strada che si dirama tra il reale e il possibile. Un viaggio nella dimensione del sogno, spesso inseparabile dalla realtà. Si chiama L'approdo dei sogni, il nuovo libro di Lucrezia Lombardo, uscito per contro l'una edizioni con la prefazione del professor Claudio Santori. La Lucrezia, approfittando del concetto di sogno, penetra proprio nella realtà delle cose. Anzi, sembra che ricerchi appassionatamente, disperatamente, un senso alle cose. Il libro è stato presentato allo spazio seme di Arezzo. A spazio seme dal 2015 conduco il cantiere di storie che è la sezione dedicata alla scrittura. Non ci siamo mai occupati di poesia, sempre di narrativa. Quindi, vista l'attività di Lucrezia Lombardo, ho pensato di fare questo incontro sul suo ultimo libro che si chiama L'approdo dei sogni, proprio per parlare veramente del fare poesia, dal greco appunto poiein, che significa appunto fare, non tanto immaginare. L'approdo dei sogni si compone di un'ottantina di testi, un vero e proprio inno alla vita. Vuole essere proprio un inno alla fanciullezza, la dimensione più pura che l'essere umano deve ritrovare dentro di sé, che è la dimensione appunto dell'innocenza, della creatività, della libertà, dell'immaginazione, quel qualcosa che ci salva, maggiore ragione in questi tempi di fatica, di sofferenza, di dolore che ci segna nel profondo. In occasione del Carnevale, i musei di Intesa San Paolo propongono a tutte le famiglie iniziative speciali per bambini e ragazzi. In questa occasione sarà possibile anche visitare le collezioni permanenti e le mostre temporanee in corso. Porta aperte anche alla Casa Museo dell'Antiquariato Imanbruschi, domenica 11 febbraio alle 16, la visita guidata a Caccia di Maschere, una speciale caccia al tesoro ovviamente in tema Carnevale. Al Teatro Petrarca invece è tutto pronto per il ritorno del Gran Galà della Danza. Un Gran Galà di Danza al Teatro Petrarca. Torna per la decima edizione il concorso Piero della Francesca, che tra sabato 10 e domenica 11 febbraio vedrà centinaia di allievi ed allieve delle scuole di tutta Italia alternarsi sul palco del più prestigioso teatro cittadino, davanti ad una giuria con maestri e coreografi di spessore nazionale. Il tutto inizia sabato perché abbiamo le masterclass con il maestro Chang dell'Opera di Roma e Matteo Levaggi della Scala di Milano che faranno le lezioni sul palco del Teatro Petrarca. La mattina della domenica inizieremo con una prima parte dedicata ai bambini e ai gruppi di pop dalle 11 all'una e poi dalle 2 e mezza ci saranno l'esibizione di tutte le danze accademiche, di tutti gli altri corsi. L'evento è nato nel 2013 per fornire un'occasione di confronto e valorizzazione delle giovani promesse del mondo della danza attraverso il conferimento di borse di studio per l'accesso ad accademie o centri di formazione. Abbiamo riscosso in tutti questi anni veramente delle belle soddisfazioni sia dal punto di vista di pubblico e di adesioni da parte delle scuole ma soprattutto anche per gli obiettivi che poi abbiamo fatto raggiungere a molti ragazzi che hanno partecipato al nostro evento. Quest'anno tra l'altro abbiamo finalmente anche per noi come Progetti per la Danza la possibilità di poter presentare il nostro progetto CAB che è il collettivo Arezzo Ballet che verrà presentato ufficialmente in questa edizione del concorso. Con una netta vittoria per 4-1 contro il Poggi Bonzi nella sedicesima giornata di campionato le Under-17 e Amaranto si sono laureate campionesse regionali Under-17 vincendo il campionato con due giornate di anticipo. Le ragazze di Misterdani hanno vinto tutte le partite giocate fino ad adesso totalizzando 42 punti con 84 gol fatti e solamente 3 subiti. Adesso per le ragazze Amaranto non resta dunque che terminare al meglio il campionato per poi concentrarsi su play-off nei quali affronteranno Empolice Zena e San Marino. L'eventuale vittoria nei play-off consentirebbe l'accesso alle fasi nazionali. Questa ferra stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.